Poracci bentornati o benvenuti sul mio canale. Ormai è sotto gli occhi di tutti che Nintendo Switch, per quanto sia una console rivoluzionaria e di grande successo, soffra di un difetto di progettazione piuttosto grave. Il destino di tutti i Joy-Con è quello di presentare prima o poi il drift, ovvero la registrazione di input di movimento da parte delle levette analogiche anche in posizione di riposo. Questo problema non esclude nessun modello e anche unità riparate dall'assistenza clienti col tempo hanno nuovamente manifestato il drift. Ora però una mossa da parte di Nintendo, un taglio di prezzo delle sue periferiche, potrebbe forse preparare una svolta radicale nella risoluzione definitiva di questa situazione. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Il drift è un difetto così diffuso e segnalato da così tanti utenti che non è assurdo pensare che ogni modello di Joy-Con sia predisposto a questo tipo di malfunzionamento. Nonostante le incessanti richieste da parte dell'utenza affinché Nintendo prendesse una posizione sulla faccenda, l'azienda di Kyoto non ha mai rilasciato dei comunicati a riguardo. Solo a giugno di quest'anno, anche se indirettamente, il presidente Shintaro Furukawa si era scusato durante un meeting con gli investitori per i disagi causati dal malfunzionamento dei Joy-Con, senza entrare però nello specifico. Il presidente aveva assicurato che l'azienda stava lavorando per migliorare i suoi prodotti, non potendo entrare nel dettaglio su quali fossero i piani di azione a causa di una class action negli Stati Uniti indetta contro i Joy-Con. Sebbene non ci siano stati aggiornamenti a riguardo, in Giappone la grande N ha iniziato a muoversi in modo molto particolare. Infatti i Joy-Con venduti singolarmente hanno subito un drastico calo di prezzo, passando da 4.480 a 3.740 yen, un risparmio di circa 8 dollari sull'acquisto finale. Stranamente il bundle con i Joy-Con in coppia non ha subito alcun calo di prezzo, anche se il sito riporta che la produzione di molti di questi sia ufficialmente terminata, e una volta esauriti usciranno dal commercio. Questo poracci apre uno scenario piuttosto interessante, da una parte ovviamente una manovra graditissima per noi utenti finali, un risparmio non enorme ma significativo. Oltre a questo però potrebbe indicare la volontà da parte di Nintendo di liberarsi degli ultimi stock invenduti per sostituirli poi con delle versioni migliorate dei Joy-Con. Magari potrebbe trattarsi di una revisione solo delle componentistiche interne, rendendo i nuovi modelli indistinguibili da quelli fallati se non per i codici seriali. Oppure, proprio come avvenuto con la versione 2019 di Nintendo Switch, potrebbe proporre un nuovo packaging ad indicare il modello più recente, sostanzialmente identico ma ben distinguibile già dallo scaffale. Oppure chissà, il depreciamento dei Joy-Con potrebbe aprire le porte a una versione Pro o 2.0 di questi, un nuovo modello dalle stesse funzionalità ma ben distinto dai controller che conosciamo oggi. In previsione dell'arrivo di un'ipotetica Switch Pro, una revisione anche dei controller potrebbe avere perfettamente senso e l'abbassamento di prezzo arriva con un tempismo troppo sospetto per non poter essere ricollecabile alla presa di posizione di Nintendo nei confronti del Joy-Con Drift. Certo, per ora tutto questo riguarda esclusivamente il mercato giapponese, ma non mi stupirei affatto se nei prossimi mesi l'azienda di Kyoto estendesse questa nuova politica anche al mercato occidentale. Dopotutto quella del Drift è una falla che sarebbe dovuta risolversi nel primo anno di vita della console ed è incredibile che dopo tre anni dal lancio globale Nintendo abbia fatto veramente poco a riguardo, limitandosi a riconoscere il problema in modo vago. Un atteggiamento che lascia abbasiti, soprattutto se si pensa alla storia dell'azienda, che storicamente ha legato il suo marchio a una qualità costruttiva senza uguali, sia per le console portatili che per quelle casalinghe e il Drift rischia di diventare una macchia in grado di oscurare le qualità della console, che sì, propone un approccio rivoluzionario al gaming, ma probabilmente avrebbe richiesto maggiore cura durante la fase di progettazione di tutte le sue componentistiche. E voi poracci cosa ne pensate di questo abbassamento di prezzo? Credete possa essere ricollegabile in qualche modo alle strategie di Nintendo per fronteggiare il Drift? E' quando vedremo questo taglio anche noi occidentali? Come al solito vi aspetto nei commenti, lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Joycon, Michele Drift, ciao!